ciao a tutti bambini oggi parleremo della sottrazione e la maestra vi presenterà alcune piccole strategie per fare i calcoli veloci nelle sottrazioni andiamo a vedere se devo togliere 9 19 29 da un numero mi basta togliere 10 20 30 da quel numero e poi aggiungere 1 se invece voglio togliere il 99 devo fare meno 100 più 1 allora se avete capito bene andiamo a vedere qualche esempio ho l'operazione 37 meno 9 se voglio togliere il 9 dal numero 37 non devo far altro che togliere 10 e ottengo il numero 27 e poi aggiungere 1 e ottenere così come risultato il numero 28 avete visto come semplice vediamo un altro esempio voglio togliere 19 al numero 45 mi basterà togliere 20 e così ottengo il numero 25 e poi aggiungere 1 e ottenere il numero 26 andiamo a vedere ancora un altro esempio se dal numero 155 voglio togliere 99 nulla di più semplice tolgo 100 al numero 155 e ottengo come risultato 55 e ottengo come risultato 55 e poi aggiungo semplicemente 1 e ottengo il numero 56 andiamo a vedere qualche altro piccolo suggerimento se voglio togliere 11 21 31 da un numero mi basterà togliere 10 20 30 e in questo caso togliere ancora 1 se voglio togliere 101 devo fare meno 100 meno 1 allora andiamo a vedere qualche altro esempio nel caso dell'operazione 65 meno 11 che cosa devo fare tolgo 10 al numero 65 e così ottengo il numero 55 e questa volta al numero 55 tolgo ancora 1 e ottengo il numero 54 vediamo ancora un altro esempio nell'operazione 90 meno 21 devo togliere 20 al numero 90 e così ottengo 70 ma al 70 ricordatevi di togliere ancora 1 e otteniamo così il numero 69 andiamo a vedere un ultimo esempio al numero 179 questa volta voglio togliere 101 beh nulla di più semplice anche qui al 179 tolgo 100 e così ho il numero 79 poi infine tolgo il numero 1 al 79 e avrò come risultato il numero 78 allora bambini se la mia lezione vi è piaciuta mettetemi un like e ci vediamo la prossima volta ciao ciao ciao